Buongiorno, sono Stefan, sono qui per sottopormi ad un intervento di perifaroplastica superiore e ho conosciuto questo centro, Paloro Medical Laser, tramite internet e ho avuto la prima consulenza qui in questo studio dove ho avuto una buonissima impressione e avendo anche avuto la fortuna di trovare una persona che era appena stata sottoposta a questo tipo di intervento, relazionarmi un po' con lui e sapere com'è l'intervento prima di poter parlare col medico vero e proprio che quest'oggi mi opererà. Ho scelto di fare questo tipo di operazione perché è da tempo che guardandomi allo specchio vedo un'espressione intorno ai miei occhi come da triste e da stanco e poi mi impedisce anche un po' la visuale nel punto morto dell'occhio, nella coda dell'occhio. spero che nella giornata di oggi l'operazione vada bene e che possa vedere i risultati che io spero di ottenere con questo tipo di operazione. ho scelto di fare questo tipo di operazione. oggi sono qui a Padova per effettuare l'ultimo controllo dopo un mese dall'intervento durante l'intervento mi sono trovato più che bene, sono sempre stato seguito molto bene sia da assistenti e sia dal medico stesso. i risultati ottenuti dopo la plefaroplastica superiore sono più che positivi a mio riguardo e posso solo consigliarla a tutti, ne vale la pena, se dovete fare un intervento venite alla Clinica Medical Laser Balla Oro. la tua piega è bellissima, guarda, puoi fare Gesù Cristo Superstar? beh, se non è normale così, capiti, si. anche con la base? ah si anche ti proseguiamo mille, mille complimenti complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti